Ciao, sto per fare un'operazione dell'inserimento copripiumino che mi avete linkato su facebook e voglio vedere se ci riesco quindi, praticamente sarebbe inserire il copripiumino il piumino, anzi, dentro l'apposito copripiumino senza impazzire e ho deciso di provare il metodo burrito quindi, si mette questo certo che se gli avevo dato una stirata, magari prima era meglio voi siete sicuri che a me riesca questo esperimento? prima di vedere come finisce, scrivetemelo già sotto ci riesco o non ci riesco? vado, eh? ok, questo è messo bene voilà ho messo al contrario non ci voglio credere non ci riesco a incontrare non ci riesco a incontrare è venuta fuori una cosa in forme, tipo un tremors gigante mamma, mamma è una macchina mamma, che è? ragazzi, scusate, ma è venuto fuori un tremors adesso io questo come lo giro? scusatemi ma no, ragà, non è impossibile ma quella è una messa in scena no ragà, esperimento fallito non ci sono riuscita perché una volta che lo infili dentro come fai a girarlo? perché diventa un marasma no Gerberino ha fallito niente ragazze provateci voi dite me se c'è riuscita io non ci sono riuscita so proprio una pippa esperimento fallito alla prossima ciao 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 ciao